Basta guardare qualsiasi bambino, come si comporta, come interagisce con i suoi coetani, con gli estani, i bambini sarebbero degli assassini se non venissero controllati. Quindi, niente, questo era il pensiero della giornata, lo psicologo Luis vi saluta, ciao! Bentrovati a Psicologia con Luis, sono il dottor Luis, come potete vedere le gambe incrociate. Secondo me lasciamo tutti psicopatici assassini violenti bipolari, solo che tramite l'educazione e l'autocontrollo dobbiamo celare questa nostra parte che abbiamo fin da piccoli. Ciao!